il rapimento in ati ci sono due occasioni che troviamo la parola harpasso in questo libro agosto giron la prima occasione troviamo quando quel l'unico filippo lo trova l'evangelizza e lo baptizza e qui in 839 ci dice che uscirono dall'acqua e lo spirito di dio rapì filippo e l'unico non lo vedeva più e lui si è andato contento un verso dopo ci parla che filippo si trova in asat dove lui evangelizza a tutta la città io vi faccio vedere un verso biblico in la descrizione di come si può evangelizzare una città dopo troviamo in 23 10 dove noi vediamo la storia di paolo dove volevano veramente colpirlo percorrerlo e il capo dell'esercito romano chiede ai suoi soldati di scendere e portarlo via di mezzo di loro perché aveva preoccupazione paura che qualche cosa le poteva accadere a paolo ora paolo si trova tra la gente filippo si trova con con l'enuco e con la gente che era con lui e di mezzo di loro sono rapiti portate via così della da la nada senza offrire una resistenza il rapimento della chiesa sarà così hasta la prossima